Benvenuti a meteogiulianci.it. Domani, martedì 12 marzo, ancora in azione la perturbazione numero 6 giunta oggi, la quale porterà ancora piogge su tutta l'Italia, piogge che saranno di forte intensità ancora sulla Sardegna, ma anche sulle coste del Lazio e della Campania. Ci saranno nevicate anche sulle Alpi a quote intorno a 1100-1300 metri, ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete le nuvole della perturbazione numero 6 che ricoprono tutta l'Italia. Bene, il tempo che farà domani mattina, vedete che piove ovunque, eccetto il Piemonte, le coste del Medio Basso Adriatico, piogge di forte intensità al mattino sulle coste campane. Andiamo a vedere il pomeriggio, vedete ancora piogge quasi ovunque, eccetto il Ponente Ligure, l'Emilia nella parte più prossima al mare e le coste del Medio Basso Adriatico. Bene, andiamo a vedere le temperature massime, temperature massime ancora invariate, intorno 10-14 gradi al nord, 12-14 al centro, 15-18 al sud e sulle isole maggiori. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.